Stiamo per ascoltare l'essenziale di Marco Mengoni, Claudia Battistelli. Siamo alle cattive abitudini e tornerò all'origine, torna a te che sei per me l'essenziale. Claudia Battistelli, eccola qui. Grazie. Tutto bene? Sì. Ti sei liberata? Abbastanza. Bene, grande. Allora da dove arrivi? Dall'Istituto Comprensivo Raffaello Giovagnoli, appunto qui a Monte Rotondo. Ah, quindi Monte Rotondo. Anche perché dobbiamo dire che loro erano in tantissimi, abbiamo fatto diverse selezioni e quindi sono arrivati questi primi dodici appunto su questo palco. Bene, già è un piccolo traguardo, no? Va bene? Grazie, Claudia.